Quando si parla di gestione del potere, il Movimento 5 Stelle si trasforma in Movimento 5 Poltrone. Notizia di oggi, infatti, è dell'accordo inciucio PD, Movimento 5 Stelle, per la scelta dei giudici costituzionali. Altro che indipendenza, altro che percorso specchiato grillino, qui si parla dei più biechi accordi da Prima Repubblica. Ma ripercorriamo un po' la storia. Il 24 novembre di quest'anno, quindi qualche giorno fa, i 5 Stelle dicevano no, Barbera non può essere votato dai 5 Stelle, in quanto imbischiato su un'inchiesta della Procura di Bari su presunte pressioni per un concorso universitario, a DN Cronos del 24 novembre. Sempre il 24 novembre, un'altra agenzia dice che per i grillini Barbera non è votabile. 25 novembre, il giorno successivo, Alessandro Di Battista, anche per Barbera il passato dal punto di vista dell'indipendenza politica non è del tutto specchiato. Poi Grillo, sul suo blog, definisce Barbera quale costituzionalista affermato, che ha militato nelle file del PC, PDS e DS, deputato alla Camera dal 76 al 94, con tanto d'incarico di ministro dei rapporti con il Parlamento. Barbera si era espresso a favore della riforma arenziana del Senato, dell'Italicum, e da sempre ha sostenuto il premierato forte. Sulla sua testa pende poi la questione ancora aperta dell'inchiesta della Procura di Bari sui concorsi pilotati dall'università. Ma Grillo, nello stesso posto, ci rassicurava che al prossimo giro, se i partiti non vogliono continuare a fare pessime figure, devono passare dal metodo 5 Stelle. E vediamo qual è il metodo 5 Stelle, inciuci e poltrone. Il primo dicembre di quest'anno, Toninelli, deputato Movimento 5 Stelle che ha seguito la vicenda, diceva che i partiti che sono pronti a votarli, e si parla dei tre nomi che al tempo erano sul piatto, tra cui ovviamente anche Barbera, vogliono occupare le poltrone per militarizzare gli organi di garanzia. Non più giudici indipendenti che operano secondo coscienza, ma soltanto comandati dai partiti. Augusto Barbera, e cito sempre le parole di Toninelli, giurista di riferimento del PD, intercettato, non indagato, in un'indagine su catered universitarie, pilotate, sottolinea Toninelli. Per il bene dei cittadini è fondamentale, sempre Toninelli, che nessuno di questi tre venga eletto. Oggi invece scopriamo che è fondamentale che passino i nomi indicati dal Movimento 5 Stelle, evidentemente la fame di potere dei grillini è forse peggio dei movimenti di Prima Repubblica. Evidentemente i vari grill di Battista Di Maio non ci fanno rimpiangere il compianto Bettino Craxi. Ovviamente inciucci, inciuccetti, accordi non ne faremo. Ma rifaccia il piacere!